Come è un lavoro di allestimenti musei? Abbiamo la fortuna in queste occasioni di parlare con persone molto preparate, molto brave, per cui un rapporto dialettico molto interessante. Di solito poi il lavoro in sé è la concezione molto rapida e poi è una parte tecnica che segue per realizzare quella che è stata l'idea. Però sono idee che si basano soprattutto su figure, su temi. Per esempio l'ultima mostra che abbiamo finito è la notte, cioè come si rappresenta la profondità della notte, che relazioni hanno le opere con la notte, con che altri elementi possiamo sottolineare o accentare le opere. È un lavoro che ci piace molto e che la parte regata al mondo dell'arte mi ha sempre interessato. Oggi però riesco a praticarla e devo dire che in questo momento forse è la parte di lavoro che mi diverte di più.